Che cosa ne pensi di Ragusa Ibla? Ragusa Ibla è il centro del barocco delle Val di Noto, quindi una zona sicuramente turistica, a forte attrazione, quindi turistica. C'è qualcosa che non va secondo te? Forse il piano traffico secondo me sarebbe un po' da rivedere, a mio giudizio poi ovviamente. Sembra molto bella effettivamente, lo assicuro. Molto tranquilla? Sì, direi di sì, un'obiezione sono solo le indicazioni, un disastro, ma un po' in generale, cartelli, cartelli stradali ci vogliono. Noi siamo spagnoli, abbiamo arrivato qui questa notte, abbiamo fatto un piccolo giro, è molto bella, noi vogliamo vedere con la luce. Problemi? Problemi di chi tipo? Traffico? Sì, un po', ma penso in tutte le città italiane, no? Un po' di caos, no? Che cosa ne pensate di Ragusa Ibla? Parliamo un po' di questo quartiere barocco. Molto interessante, la posizione, il barocco, tutta la cittadina è molto caratteristica. C'è qualche problema che avete riscontrato? No, no, siamo andati al parcheggio, noi siamo in camper, abbiamo dormito anche lì, abbiamo visitato ieri con l'atmosfera serale e stamattina facciamo un altro giro. Noi abbiamo dormito giù in camper, sì, mi è piaciuta molto, ci siamo trovati molto bene, è anche ben organizzato il parcheggio con la navetta, eccetera, cioè ha rispecchiato le mie aspettative. Noi abbiamo da Pozzallo indicazioni sbagliatissime, cioè da 15 chilometri siamo arrivati ad un certo punto 23, come prima erano 15, dopo un chilometro 23, quello sì, quello non è indicato bene sicuramente. Noi abbiamo da Pozzallo indicazioni sbagliatissime.